Alle prime luci dell'alba i carabinieri del comando provinciale di Foggia, quelli dello squadrone riportato cacciatori di Puglia con il supporto di un elicottero, su richiesta della procura di stettore antimafia, hanno eseguito due arresti eccellenti nei confronti di appartenenti al clan Di Tommaso di Cerignola, conosciuti anche col soprannome di Taddone, con base logistica nel quartiere San Samuele del centro Fantino. A finire in manette per i reati di rapina, tentata estorsione, autoriciclaggio e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso, il 49enne Stefano Di Tommaso e il nipote 28enne Antonio Rubio, ritenuti rispettivamente capo ed elemento di vertice del clan. Un'altra persona è tuttora attivamente ricercata. Gli arresti sono scaturiti in seguito alle indagini sulla rapina ai danni di un imprenditore del posto avvenuta nel dicembre del 2015. Nel corso della rapina la vittima fu sequestrata da quattro individui armati e costretta a salire su un'altra auto. L'imprenditore riuscì a fuggire lanciandosi dall'auto in corsa e in quel frangente riconobbe uno dei rapinatori, Antonio Rubio. Il malvivente, all'indomani della rapina, smontava la macchina per poi venderne i pezzi presso la sua rivendita di pezzi di ricambio, sempre a Cerignola. Nei mesi successivi l'imprenditore era stato avvicinato dal Di Tommaso che tramite minacce chiedeva di assumere presso la propria azienda un suo amico che stava per uscire dal carcere. Nell'occasione Di Tommaso aveva puntato contro la vittima addirittura una pistola. Al Di Tommaso si contesta inoltre aver commesso i fatti nonostante sotto sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.